Ciao a tutti, io sono Anna Senatore e questo video è un po' il biglietto da visita. Questo è il mio studio, si trova a Ferrara. Ho un'esperienza decennale nel campo delle discipline olistiche. Ho registrato dei marchi legati a dei massaggi e a dei percorsi evolutivi, fra cui il vivere zen e il massaggio zen. Sono due approcci che mi hanno aiutato in questi anni a supportare le persone, a entrare in contatto con se stesse e quindi stare bene anche con gli altri. Questo video vuole essere, come dicevo prima, la mia presentazione e offrire la possibilità di conoscermi un po' più da vicino. Sono stata l'anno scorso la prima consulente olistica che ha intrapreso un tirocinio come assistente sessuale e sono stata la prima in Italia e questa esperienza mi ha offerto anche una certa visibilità. L'aspetto che mi contraddistingue è un approccio empirico ed euristico, quindi ogni percorso che ho intrapreso in questi dieci anni è sempre stato un viaggio esperienziale che portasse a raggiungere sicuramente degli obiettivi e quasi sempre erano connessi proprio ad uno stato di benessere che avesse a che fare non solo da un punto di vista fisico ma anche energetico. Lavoro molto con l'energia e sono specializzata anche nel tantra, infatti insegno attraverso percorsi sia individualmente che alle coppie. Questa sessualità sacra è sicuramente un biglietto da visita per aiutare per le persone che desiderano avere un supporto l'aspetto non solo della corporeità ma dell'intimità e di un approccio sacro alla sessualità. Direi che ho detto tutto ciò che potrebbe essere importante da sapere. Io sono disponibile per una consulenza, per un primo contatto telefonico e poi eventualmente considerare l'idea di fare un'assistenza oristica. Io vi ringrazio dell'attenzione e un abbraccio cosmico. Ciao! Ciao!